Un nuovo umanesimo dello sport, un patto educativo e culturale. E' stato questo il titolo del convegno nazionale organizzato nell'ambito delle iniziative dell'anno berardiano da diocesi di Teramo Atria e Università degli Studi di Teramo con il patrocinio di Sport e Salute. Siamo in un momento in cui i nostri giorni fanno fatica a scoprire il senso della preparazione. Io spero che anche attraverso l'attività sportiva, vissuto nelle parochie, in tante realtà associative della nostra diocesi possa essere una grande occasione per aiutare i nostri giovani a ritrovarsi insieme e soprattutto a scoprire il senso di camminare insieme. All'iniziativa ha collaborato anche il CSI Teramo nell'ambito delle azioni promosse dal progetto GINS. La testimonianza di Sergio Brio e Fabrizio Dottavio sono certamente due testimonianze di grande rilievo e quindi cercheremo di affrontare queste tematiche in maniera critica, in maniera attenta, in maniera dettagliata perché davvero lo sport può essere analizzato anche come fenomeno sociale, scientifico e merita davvero questo spazio accademico e da Teramo oggi partirà questa piccola rivoluzione culturale sullo sport. Viviamo in un'epoca complessa sotto alcuni aspetti perché comunque c'è questa corsa ossessiva al raggiungimento degli obiettivi, alla performance perfetta, siamo sempre di corsa, guardiamo modelli inarrivabili. Ora è giustissimo porsi degli obiettivi però è importante anche capire come fare per rimettere la persona al centro, la persona, l'atleta al centro con tutti i suoi valori, con la sua personalità, con i suoi sentimenti, con i suoi pregi e i suoi difetti. Quindi ecco, corre ricentrarsi, questa mattinata probabilmente sarà molto utile sia per noi più grandi relatori al di qua del tavolo che per la nostra platea. È un piacere ritornare in Abruzzo, una bellissima terra e devo dire che è un messaggio il raccontare come abbiamo fatto ad arrivare a grandi livelli, con i grandi sacrifici dell'inizio da quando si è bambini e poi arrivare a grandi traguardi. È il percorso ovviamente che abbiamo fatto di grandi sacrifici e penso che possa essere utile a questi ragazzi che sono il futuro della nostra Italia.